Ben trovati, nuovo appuntamento con il TG Question Time, siamo di venerdì e dunque ci dedichiamo alle varie notizie sulla nostra città, lo facciamo con il sindaco di Novara Alessandro Canelli qui di fronte a me. Buonasera. Buonasera, parliamo di un tema in apertura che è davvero molto sentito, per l'Italia si parla proprio di emergenza e vogliamo capire l'immigrazione che in questo momento sta portando tanti cittadini stranieri nel sud d'Italia, soprattutto a Lampedusa che è davvero in grosse difficoltà, su Novara come si riflette, come vive la nostra città e che cosa si deve attendere nei prossimi giorni e settimane. Diciamo che ormai è diventata una vera e propria emergenza, da come possiamo vedere anche sui telegiornali, nei giornali, le immagini che ci arrivano da Lampedusa sono veramente drammatiche, gli sbarchi continuano, incessanti, continuano ad arrivare di immigrati che stanno affollando i centri, ormai da qualche mese, i centri di accoglienza nel sud Italia e quindi necessariamente è in atto una redistribuzione di queste persone su tutto il territorio nazionale. e questa redistribuzione sta cominciando a farsi sentire, quindi sui territori anche del centro nord, sta cominciando a farsi sentire nelle città. Ora, la situazione a Novara è la seguente, do dei numeri così almeno abbiamo chiara la situazione. Nel 2016, quando noi abbiamo iniziato il mandato qua a Novara, gli immigrati accolti in centri di accoglienza per stranieri, i cosiddetti CAS, nella città erano circa 800, in tutta la provincia erano 1.600, 1.700, quindi c'era la metà di tutti gli immigrati nel 2016 ospitati in provincia di Novara, erano in città. Abbiamo cominciato con la prefettura a lamentarci di questo, perché 800 significa 8 ogni mille abitanti e già all'epoca, prima che arrivasse il ministro Salvini al ministero degli interni, le indicazioni erano quelle di averne circa 4 ogni mille abitanti. Quindi noi qui c'era un sovraffollamento. Eravamo già al doppio. Abbiamo cominciato quindi con la prefettura a lamentarci e sono stati fatti nuovi bandi andando a contingentare gli arrivi sulla città. Questo ha consentito di abbassare gradualmente il numero di immigrati ospitati in CAS nella nostra città, poi quando è arrivato il ministro Salvini gli sbarchi sono sostanzialmente terminati e quindi questo ha ridotto ulteriormente il numero di migranti ospitati nella nostra città. Attualmente nella nostra città sono presenti circa 350 immigrati in strutture di accoglienza per stranieri. Cosa sono i CAS? I CAS sono delle strutture, possono essere appartamenti, possono essere hotel, possono essere strutture, comunque sia che ospitano continuativamente questi stranieri e sono gestiti dalle cooperative e da soggetti gestori specializzati in questo. E sono in attesa di avere l'asilo politico, la protezione internazionale e queste sono strutture non temporanee, sono fisse. E qui in Novara ne abbiamo circa 350. Ora, con tutti questi arrivi le prefetture piemontesi stanno organizzando dei vari centri di prima accoglienza, non CAS, gestiti dalla Croce Rossa che servono per ospitare temporaneamente, per un numero limitato di mesi, 8 o 10, sulla base di un accordo fatto con la Croce Rossa, questi migranti per poi redistribuirli nei CAS. Noi abbiamo detto chiaro tondo alla prefettura che non vogliamo più CAS nella città di Novara, perché noi abbiamo già 350, quindi siamo quasi al limite dei 4 ogni 1000 abitanti in città e in più noi abbiamo ospitato anche tantissimi profughi ucraini che sono scappati dalla guerra attualmente in corso. Quindi riteniamo di aver già dato molto dal punto di vista dell'accoglienza come città. Abbiamo detto loro che siccome sono in fase emergenziale, noi potevamo fare la nostra parte solo per una struttura di prima accoglienza, quindi temporanea per qualche mese. Questa iniziale praticamente. È stata approntata attraverso un accordo con la profettura e l'agenzia territoriale della casa che aveva una struttura chiusa e quindi disponibile, però ancora non è stata utilizzata. Quindi noi ospitiamo che non venga utilizzata. Penso che purtroppo ne arriveranno. Non sarà così. Però nel frattempo la prefettura ha trovato destinazione di questi hub temporanei in altre parti della provincia. Quindi per ora non abbiamo, non lo sentiamo ancora tantissimo qua a Novara questo arrivo. Perché non c'è una concentrazione. C'è però nella provincia. C'è però sicuramente aumenteranno anche nella provincia perché è fisiologico, perché devono metterli da qualche parte questi migranti che stanno arrivando sulle coste italiane. In altre città lo stanno già sentendo molto di più. Nelle grandi città metropolitane, nelle metropoli, più a Milano o in altre città capoluogo di provincia, le stanno sentendo un po' di più. Poi c'è un secondo fenomeno che invece ci interessa direttamente da tantissimi anni che è quello dei minori stranieri non accompagnati. Alcuni di questi arrivano anche loro con le barche, altri arrivano per altri canali, per altre strade. Qualcuno viene addirittura in aereo dai loro paesi di origine, qualcuno utilizza la tratta balcanica, qualcuno arriva in nave in qualche porto italiano e poi si trasferisce nelle grandi città. Siccome la maggior parte delle concentrazioni degli arrivi di questi minori stranieri sono minori non accompagnati. Arrivano soprattutto dall'Egitto, dal Nord Africa, dall'Albania. Queste sono le zone di provenienza, arrivano a Milano, Milano non trovano accoglienza, salgono sul treno, arrivano nelle prime stazioni che si fermano, scendono, si presentano in questura col fogliettino e dicono noi siamo minori stranieri non accompagnati, ci dovete accogliere secondo la legge italiana. Attenzione, questa cosa sta avvenendo a Novara, Lodi, Cremona, Bergamo, Como, cioè in tutta la cintura del milanese. Ma qual è il problema? Il problema è che i minori stranieri non accompagnati vanno a carico delle casse delle risorse comunali. Fortunatamente il governo ha capito questa cosa perché stava diventando veramente un vero e proprio bagno di sangue per queste città e ha alzato il rimborso giornaliero a 100 euro. Perché questi ragazzi messi in struttura, secondo la legge attuale, devono avere lo psicologo, l'insegnante, il mediatore culturale, l'assistente sociale, costano circa 120 euro al giorno. Voi pensate sono 3.600 euro al mese, se ne hai 100 sono 360.000 euro al mese per il comune. Se ne hai 100 sono più di 4 milioni di euro all'anno. Se non ci fosse un rimborso dello Stato, il comune sarebbe in default e non avremmo più le risorse, già in parte le dobbiamo usare per questo fenomeno, per poter sostenere i disabili, per poter potenziare il servizio nelle scuole di assistenza degli insegnanti ai ragazzini disabili, per poter potenziare i servizi di assistenza domiciliare agli anziani. Quindi è un idrogoro a questo fenomeno che toglie risorse ai comuni che potrebbero essere impiegati per il welfare cittadino. In altro. Un fenomeno che anche questo comunque sarà destinato ad aumentare. Ma in questo momento sono circa 21.000 in tutta Italia i minori stranieri non accompagnati. La legge dice che è lo Stato che si deve occupare dei minori stranieri non accompagnati con strutture ad hoc. Solo residualmente, temporaneamente e senza oneri a carico dei comuni si possono occupare dei minori stranieri non accompagnati i comuni, ma solo in questo caso. Invece qui, diciamo così, l'ANDA è che da tantissimi anni se ne occupano solo i comuni. E' ben diversa. E quindi questa cosa qui io la trovo profondamente ingiusta. ma non... si tratta di ragazzini molto spesso. Alcune volte non sono ragazzini ma secondo molti sono già maggiorenni. E quindi un po' c'è un problema. Però giocano sull'età. Però comunque sia, si tratta di ragazzini, quindi non è che si può, diciamo così, girarsi dall'altra parte, no? Però anche volendo fare tutto da solo un comune non può fare. Però ditemi voi, qui a Novara adesso ne abbiamo più di 90, la gran parte di questi arrivano dallo stesso paese, ma non soltanto dallo stesso paese. Alcuni arrivano dalla stessa cittadina, quindi vuol dire che c'è dietro qualcosa che li manda qua perché sa che vengono ospitati, così come Novara, Bergamo, Milano e quant'altro. Certo, quindi un capitolo che comunque va assolutamente tenuto sotto controllo e anche risolto. Un altro argomento è molto importante invece per quattro figure che state ricercando per il servizio civile digitale. Giovani che si dovranno occupare proprio dell'ampliamento della digitalizzazione in comune e verranno localizzati anche presso Nova. Spazio Nova e presso l'Istituto OMAR, quindi due all'OMAR e due allo Spazio Nova sono una ricerca, verranno pagati innanzitutto, quindi servizio civile digitale significa che è un servizio civile dove i ragazzi che saranno selezionati attraverso un bando di selezione che verrà fatto dalla cooperativa URIVE, quindi l'invito è se siete giovani fino ai 28 anni oppure se avete dei nipoti, se avete dei figli che hanno un'età non superiore ai 28 anni vogliono farsi questa esperienza di servizio civile digitale, sono capaci nel mondo ovviamente della digitalizzazione, di internet, dell'informatica, questa è una buona opportunità, si viene anche pagati per poter fare una bella esperienza mettendosi a disposizione anche della comunità perché questi ragazzi avranno il compito di implementare, di rafforzare i servizi digitali all'interno di quelle strutture e nello stesso tempo lavorare per cercare di abbassare i livelli di non conoscenza informatica soprattutto nei confronti di certe generazioni più anziane perché ormai il mondo sta andando sempre di più verso una digitalizzazione spinta e quindi ci sono tante fasce di età, tante fasce di popolazione che ancora non sono alfabetizzati passatemi questo termine dal punto di vista informatico in maniera perfetta e quindi tutte queste iniziative servono per diffondere sempre di più la conoscenza dell'uso degli strumenti informatici che può essere utile anche nel rapporto tra cittadino e comune, tra cittadino e servizi di qualsiasi genere, voi pensate in banca ormai si fa tutto via internet, via computer, però ci sono tanti anziani, tante persone che non hanno conoscenze informatiche che non possono essere tagliate fuori dai servizi solo perché non sanno usare un computer e quindi bisogna stare attenti a questo aspetto e cercare di diffondere il più possibile questa cultura. Aspetto digitale che è molto importante, tra l'altro c'è anche un progetto finanziato con il PNRR proprio qui in comune che sta andando avanti tra l'altro. Sì, noi abbiamo ricevuto ben 2 milioni di euro dai ministeri competenti sulla transizione digitale per poter implementare i servizi, quindi mettere i servizi del comune sull'app io per intenderci, oppure per fare la cosiddetta migrazione cloud di tutti gli archivi dell'ufficio cloud sarebbe questo spazio virtuale dove vengono caricati tutti i dati e vengono tenuti in sicurezza, quindi non uno spazio fisico e quindi riduce notevolmente la necessità di avere magazzini e spazi fisici per il loro immagazzinamento e quindi noi stiamo andando avanti con questo progetto attraverso l'acquisizione di fornitori di servizi che ci stanno ovviamente rafforzando tutto questo aspetto perché anche qua, così come avviene per le banche, anche nei comuni, anche nelle pubbliche amministrazioni si va sempre più spesso verso una soluzione di digitalizzazione che consenta a un cittadino o a un'impresa o a chiunque abbia un'attività di riuscire a interloquire, chiedere documenti, fare documenti, fare richieste, risparmiando tempo stando seduto nella propria scrivania o nel proprio tavolo a casa con delle password entra e richiede i documenti necessari, questo diciamo così sarà sempre più la tendenza del futuro, poi mi rendo conto che come ho detto prima ci sono tante persone che invece hanno ancora bisogno di venire allo sportello, infatti noi i sportelli li teniamo aperti anche se certe volte c'è qualche coda, purtroppo, però voglio dire ormai il servizio anagrafe l'abbiamo rimesso a posto perché prima c'era veramente col covid si è sommato che erano stati grossi problemi, adesso finalmente è tutto stabilizzato, non ci sono più codici, c'è velocità e quindi questo è... Perfetto, un altro argomento difficile chiuderlo, in soli due minuti parliamo di sostenibilità, tra l'altro da domani parte la settimana della mobilità sostenibile, diciamo che non ne avevamo parlato la scorsa settimana, sono stati acquisiti nuovi mezzi per la Sun, molto importanti proprio perché non immettono inquinamento nell'aria, questo è fondamentale, quindi è una settimana questa in cui ci saranno convegni e varie iniziative proprio per sensibilizzare su questo argomento. La Sun ha 73 pullman, di questi 73, 63 vengono utilizzati quando ci sono i picchi ovviamente di utilizzo durante la giornata, se sono gli studenti da portare, quindi 63, 10 vengono sostanzialmente tenuti di riserva nel caso in cui si rompa qualche pullman, ci sia qualche problema, di questi 73 pullman 28 sono a gasolio, 42 sono a metano, 3 sono elettrici, con questa operazione abbiamo cominciato ad acquistare 15 nuovi pullman a metano che sostituiranno i pullman a metano più vecchi, che hanno 10-15 anni di età e quindi ovviamente non sono più così tanto ecologici, quindi questi 15 pullman che abbiamo acquistato a 3 milioni e qualcosa, con un esborso della Sun di soli 300 mila euro, perché la restante parte delle risorse siamo riusciti a ottenerle dal Ministero e dalla Regione, cominciamo a dare una bella botta di rinnovamento del nostro parco mezzi della Sun. In primavera arriveranno altri 10 pullman elettrici, più altri 4, insomma 14 durante l'anno, quindi 14 pullman elettrici che andranno a sostituire la metà di quelli a gasolio, quindi entro l'anno prossimo noi avremo un parco mezzi sostanzialmente tutto ecologico, perché ovviamente quelli a gasolio rimanenti li teniamo di riserva e facciamo viaggiare, o al massimo fanno due o tre corse al giorno, non di più, il restante del parco mezzi andrà in giro e sarà ecologico. Senta, l'appuntamento quindi con lei è la settimana prossima, venerdì, per parlare di altre novità che riguardano ovviamente la nostra città, mentre approfondiremo proprio l'argomento della settimana della mobilità sostenibile domenica sera alle ore 20. Buonasera a tutti. Grazie. Grazie.